Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Grazie per aver partecipato, scelto di partecipare al nostro webinar di Storia dell'Ambiente che ospita oggi Roberta Biasillo che ha così gentilmente accettato l'invito di Giacomo Bonane, mio, di parlare, di avere una conversazione oggi con noi su un argomento così interessante come la storia ambientale nel contesto dello spazio coloniale. Quindi questo incontro particolarmente interessante che sono sicuro sarà pieno di stimoli per tutti, sia chi è più addentro a un aspetto o all'altro di questa particolare sinergia che oggi abbiamo voluto portarvi e farvi un po' sentire in questa nostra conversazione. Naturalmente noi ringraziamo anche a nome di ISIG Roberto Biasillo per aver accettato di partecipare a questo nostro evento che fa parte del ciclo delle storie in costruzione organizzato dall'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento e che naturalmente ha messo in piedi tutto il suo apparato tecnico per poter anche oggi fare questo evento a distanza come i tempi ormai impongono ma speriamo che la distanza fisica che c'è fra di noi e il nostro pubblico non sia come dire non sia di impedimento a avere il piacere di una bella discussione e di una bella chiacchierata. Io vi saluto e vi ringrazio e cedo la parola a Giacomo Bonan che ci presenterà la nostra guest Roberto Biasillo e da lì daremo inizio alla nostra discussione. Grazie. Grazie mille Luca e ovviamente il mio socio anche io ai ringraziamenti che hai fatto e sono molto contento di poter presentare Roberta questa sera. Roberta Biasillo è una storica dell'ambiente, è una storica dell'Italia contemporanea, si è laureata all'Università di Roma Sapienza e poi ha fatto un dottorato all'Università di Bari sulla storia forestale, la storia del sfruttamento delle risorse forestali nell'Italia liberale e dopo il dottorato ha iniziato una serie di prelegrinazioni ai vari centri di ricerca europei, è stata per due volte ricercatrice alla KTH, l'Istituto of Technology, in particolare all'Environmental Humanities Laboratory a Stoccolma, è stata fellow alla ricerca social center di Monaco di Baviera ed è attualmente Max Weber Fellow presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole dove sta concludendo una ricerca, come accennava anche Luca, sull'esperienza coloniale italiana in Libia e in particolar modo sull'impatto ambientale di questa occupazione coloniale. A breve insomma entreremo nel vivo di queste tematiche ma io e Luca abbiamo scelto di prenderla un po' larga questa sera perché siamo, credo di poter parlare anche per lui due grandi fan di un podcast che si chiama Storici a microfono, curato da due colleghi dell'Istituto Enrico Valserialti e Claudio Perlan e senza ovviamente voler tentare un'impossibile imitazione del loro livello abbiamo pensato di prendere un po' espirazione almeno per la prima domanda e quindi di chiedere inizialmente a Roberto insomma quali sono le motivazioni, le ragioni, le curiosità e anche insomma i casi che l'hanno spinta ad interessarsi di questi temi e ad iniziare questa ricerca di cui ora più in più sta scrivendo la monografia che dovrebbe essere il risultato finale. E ti cedo la parola Roberta. Grazie Luca, grazie Giacomo per l'invito e grazie anche per aver scelto il format della conversazione perché credo che quello che dirò è il frutto di una ricerca che è in corso è il frutto di dubbi con cui mi confronto mentre cerco di dare una forma alla mia ricerca quindi qualsiasi commento e in qualsiasi momento vogliate intervenire vi prego di farlo perché è stata appunto costruita come una conversazione sul tema del colonialismo italiano e sul tema più generale della storia ambientale. Come ha detto Giacomo io ho sempre insomma lavorato su due temi principali uno legato un po' più alla storia dell'agricoltura e uno un po' legato alla storia dell'ambiente il primo è appunto quello della questione territoriale e della questione forestale in Italia durante l'Italia liberale e quindi che tipo di usi l'Italia liberale fa del bosco e delle aree marginali e ho provato un po' a vedere in che modo si può definire il periodo che va dal 1861 al 1914 come ecoliberalismo, cioè le modalità con cui l'Italia liberale incorpora l'ambiente a livello sociale, a livello economico, a livello politico. Questa è stata la mia ricerca di dottorato che aveva un centro come insomma vedete sull'Italia. Quando tra il dottorato e il post dottorato ho avuto un anno in cui non ho lavorato all'università ma ho lavorato in un progetto SPRAR, un progetto che si proponeva l'inclusione dei richiedenti asilo e dei migranti che arrivavano in Italia e è stata la prima volta in cui ho interagito un po' di più con la questione coloniale e poi cercavo anche al contempo un argomento che mi portasse fuori dai confini nazionali e che mi permettesse di interagire con qualcosa di nuovo, con un ambito storiografico diverso e quindi ho pensato di mettere insieme queste suggestioni e poi avevo bisogno di un argomento nuovo perché ero stata già quattro anni sul primo e quindi ho pensato di avvicinarmi alla storia del colonialismo italiano in Africa anche perché dal punto di vista ambientale adesso stanno uscendo delle ricerche ma fino a quel momento non c'era stato ancora niente quindi era un po' un terreno di sperimentazione ed era un terreno nuovo per me all'inizio ovviamente il mio progetto era diverso da quello che adesso era comprendeva sia l'Africa dell'Est che il Nord Africa e adesso mi sto concentrando di più sulla Libia Grazie Roberta per averci dato un po' un'idea di da dove arrivi un po' di contesto un po' di contesto hai perfettamente ragione quando dici che per quanto riguarda la storia del colonialismo italiano l'aspetto ambientale nella definizione che oggi si dà di storia ambientale molto aperta non ha avuto tantissimissima fortuna è un campo che era inesplorato e quindi è per questo che ci piace anche molto vedere che ci sono cose nuove che stanno uscendo che è una nuova prospettiva e arricchisce un intero campo che anche diciamo per molto tempo ha avuto dei problemi anche se vogliamo svecchiarsi io per dare, per rispettare un po' anche la forma che vogliamo darci di una chiacchierata io dalla tua ricerca vorrei, come dire, io ho mille curiosità però la prima che vorrei porti è questa cioè innanzitutto come approcci il problema della periodizzazione cioè come scegli quali sono i termini cronologici in cui concentrarti se ti senti in qualche modo, è evidente parliamo di colonialismo italiano l'area generale è quella, però come hai scelto il periodo, il momento, l'arco, l'ampiezza o la limitatezza del periodo cronologico che hai scelto di indagare? intanto quando c'è la prima difficoltà di una ricerca è definire lo spazio e il tempo lo spazio è un po' più semplice perché ho subito pensato a limitarmi alla storia del colonialismo italiano in Africa, all'inizio pensavo di coprire entrambe, sia l'Africa dell'Est che l'Africa del Nord e poi più studiavo, più vedevo comunque che il materiale era tanto e soprattutto che le storie erano diverse dal punto di vista ambientale l'Est Africa è completamente diverso dalla Libia l'uso dell'ambiente che si fa a livello politico è completamente diverso ci sono strategie diverse e quindi anche per una questione di semplicità ho preferito concentrarmi sulla Libia e poi perché la Libia a livello agricolo mi permetteva di osservare un svolgimento un po' più lungo per analizzare le questioni di bonifica e soprattutto per concentrarmi sul periodo del fascismo quindi la prima cosa che si è venuta a definire è stato lo spazio ho iniziato a concentrarmi sulla Libia la questione cronologica è uno dei nodi critici insomma della mia ricerca perché se approcciamo la storia coloniale da un punto di vista ambientale lo possiamo fare da quello che adesso sono arrivata alla conclusione che si può fare in due modi si possono usare o i tempi della natura o quelli che io chiamo i tempi della politica se vi posso condividere l'unica slide di oggi poi non vi torturerò più con le slide non aspettiamo mai, siamo qui allora, così è un po' più semplice da spiegare per me allora, adesso dovresti vedere il mio schermo? perfetto ok, quindi quando ho pensato a come organizzare la ricerca allora, questa ricerca nasce come una storia della trasformazione che il fascismo fa della Libia quindi nasce con una cronologia politica quindi che va dal 1922 al 1943 quali sono le ecologie che il fascismo porta in Libia? sono quelle che sono legate soprattutto alla trasformazione agricola e l'idea, e da un certo punto in poi comincia a venire fuori l'idea di una colonizzazione demografica quindi all'inizio io ho provato a concentrarmi sul tempo della politica appunto sul tempo del fascismo ovviamente molte cose vanno al di là di quest'ambito, di questi vent'anni quindi la questione del suolo, la questione dell'acqua la questione dei rapporti con gli indigeni sono questioni che l'Italia si trova ad affrontare già durante l'Italia liberale ovviamente c'è una trasformazione, alcune cose cambiano durante il fascismo però alcune cose rimangono quindi ho cominciato a pensare, ok ma ci sono altre cronologie possibili e quindi mi è venuta l'idea di pensare a come la... se io mi focalizzo sul ruolo della natura invece del rapporto fra natura e politica ovviamente potrei proporre una cronologia diversa cioè quando è che la Libia viene vista come un luogo da trasformare come colonia di popolamento? inizia all'inizio dell'Ottocento e non inizia solo con gli italiani quindi allargare l'ambito cronologico significa anche allargare i soggetti coinvolti quindi la prima volta che lo studio... c'è uno studio sul suolo e sulle risorse della Libia per impiantare una colonia di popolamento non sono fatte dagli italiani vengono fatte all'inizio dell'Ottocento e poi gli italiani entrano negli anni Dieci quindi c'è questa differenza di cronologia e poi inoltre se io considero i tempi della natura mi faccio una domanda che è diversa da quella che il tempo della politica mi propone il tempo della natura mi chiede di interrogarmi sulla sostenibilità del progetto coloniale mentre il tempo della politica mi chiede di interrogarmi sul rapporto fra politica e ambiente cioè qual è l'uso politico che si fa dell'ambiente e che tipo di trasformazioni sono legate a questo uso politico quindi cambiare la cronologia significa non solo cambiare l'ambito cioè gli anni che noi analizziamo ma significa anche cambiare la domanda di ricerca quindi spostare il focus e cambiare l'idea di rapporto comunità-società e ambiente ovviamente se adotto i tempi della natura il 43 non funziona più come termine cronologico e quindi quando è che finisce il rapporto Europa-Africa-coloniale non finisce con la fine del colonialismo e infatti se vogliamo analizzare i tempi della natura i tempi della sostenibilità quello che succede col colonialismo è la rottura del rapporto comunità-ambiente e quella rottura ha conseguenze ancora oggi cioè la Libia non è più le comunità e la Libia è uno stato in cui si è passato da una prevalenza agricola ad avere come risorsa centrale il petrolio e quindi qual è l'eredità che lascia il colonialismo in termini di sostenibilità e di creare legame comunità-natura quindi queste due cronologie adesso sto provando a tenerle insieme nel volume e quindi c'è una parte centrale molto focalizzata sulle trasformazioni del fascismo e sulle varie trasformazioni agricole che il fascismo porta in Libia e poi c'è un contesto generale di introduzione e di conclusione per allargare un po' e dire ok, queste cose non iniziano e finiscono col fascismo sono dei rapporti comunità-natura che vengono introdotti e continuano anche dopo il periodo del fascismo la stessa cosa si può anche vedere con l'Est Africa come il fascismo se faccio un'analisi del rapporto che tipo di ecologia il fascismo crea nell'Est Africa allora ci sono anche progetti di colonizzazione agricola però la visione dell'ambiente dell'Africa orientale è appunto quella di essere un ambiente da cui estrarre materie prime quindi c'è un legame molto stretto fra autarchia e Africa dell'Est per la Libia c'è anche il discorso sull'autarchia ma viene articolato in maniera diversa e anche qui se io invece allargo l'ambito cronologico cambia anche il modo in cui l'ambiente dell'Africa orientale entra nella storia del colonialismo e però c'è una convergenza interessante se usiamo questo paradigma della sostenibilità il petrolio poi diventa in molti paesi postcoloniali uno degli elementi centrali nel determinare l'ambiente postcoloniale non so se ho risposto alla tua domanda o se ho altri dubbi assolutamente però questo si ricollega anche al tipo di cioè ai vari filoni che esistono all'interno della storia ambientale dovrei aver interrotto la condivisione così ci rivediamo cioè che tipo di storia ambientale vogliamo fare cioè la storia ambientale nasce come una storiografia transnazionale però al contempo si possono analizzare delle dinamiche di formazione statale o dinamiche legate proprio a dei regimi come per esempio il regime fascista attraverso l'ambiente sono due idee cioè due approcci alla storia ambientale diversa che danno una ricchezza incredibile al campo di studi che voglio dire già solo sfidare in un certo senso la cronologia il tuo ampliare all'indietro e trovare filoni e dinamiche di modificazione dell'ambiente per fini che possiamo definire coloniali è già una grande rottura perché i limiti delle addirittura spesso delle storie delle rinarrazioni delle narrazioni di questioni coloniali sono spesso fortemente legate a una cronologia politica molto forte addirittura con suddivisioni interne della storia coloniale che hanno ripercussioni fortissime nella riscrittura addirittura ci sono storie coloniali che vogliono mettono molto delle storie del colonialismo italiano che mettono molto l'accento su singole personalità su singoli governatori e diciamo cose di questo tipo che come dire spesso impoveriscono un dibattito invece aprendo sempre di più restituisce una complessità ai territori e alle popolazioni che vivono in quei territori una ricchezza che sinceramente è più che ce n'è più che bisogno in questo momento alla luce di guardare anche con una prospettiva molto più ampia cronologicamente e sulla questione dello spazio giusto una nota così che mi è venuta in mente la scelta dello spazio Libia è una scelta è coscientemente una scelta che come dire prende atto di una definizione che deriva dalla dominazione coloniale nel senso lo spazio geografico Libia è definito secondo linee politiche determinate dall'imperialismo italiano quello che volevo chiederti è se secondo te questa per te è una limitazione è un problema è un dato di fatto con cui riesci a convivere nel tuo lavoro senza problemi è giusto una curiosità in genere una cosa che poi ho notato lavorando sullo spazio appunto è che anche se noi usiamo altre categorie si parla di tripolitania si parla di cirenaica alla fine lo spazio effettivamente colonizzato è molto poco lo spazio trasformato è molto poco infatti la cosa non so se poi verrà fuori nella conversazione è che quando si c'è una cosa che va tenuta in considerazione è che lo spazio precoloniale non scompare lo spazio rimane rimangono le pratiche ovviamente in rapporti di subordinazione soprattutto nelle fonti alcune cose non si vedono però ci sono quindi poi spostarsi un po' da una storia dell'agricoltura a una storia dell'ambiente permette anche di relativizzare il focus e dire ok ma la parte colonizzata trasformata effettivamente era pochissimo rispetto alla superficie della Libia quindi qualsiasi zona o nome di regione utilizziamo è comunque un'approssimazione e una categoria che appartiene alla costruzione storica però sulla cronologia quando è iniziato ad allargare perché le critiche che ho ricevuto è la colonizzazione fascista è una periodizzazione che tu decidi però le trasformazioni iniziano prima e quindi ho pensato ok però se devo veramente liberarmi da una cronologia legata alla politica devo iniziare a vedere quando è che un territorio è stato concepito come coloniale attraverso alcuni elementi che poi rimangono perciò anche la parlare di Italia è un po' limitante se voglio usare la domanda il colonialismo è sostenibile oppure no e perché non è sostenibile certamente certamente grazie per questo spunto che ci hai dato su una cosa così fondamentale per uno studio storico credo che Giacomo però abbia abbia un punto da sollevare in questo momento che si sta trattenendo lo so e mi scuso no no figuratevi è stato molto molto interessante e anche io avrei moltissimi punti da tante domande tante sollecitazioni insomma io e Luca abbiamo avuto anche la fortuna di vedere una sorta di scaletta del lavoro che stai preparando e una curiosità che avevo riguarda l'approccio con cui tu ci hai spiegato che vuoi confrontarti della modern human history ma non solo history perché è un approccio metodologico che viene adottato sia in storia che nell'environmental humanities in generale e volevo chiederti un po' di più innanzitutto come lo intendi e come lo definisci te perché immagino che anche molti dei nostri ascoltatori non sappiano bene di cosa si parla e poi invece come ti ha consentito insomma di ridiscutere alcune categorie con cui ti stavi confrontando in parte ovviamente hai già risposto anche in relazione alla periodizzazione però vedendo la struttura del libro su cui stai lavorando mi sembra che la scelta anche dei capitoli non so se è stata una scelta immediata che avevi già in mente quando la ricerca era nella fase insomma di raccolta del materiale dell'archivio o è invece maturata in seguito proprio in base anche a una serie di problemi che hai trovato durante la ricerca e come questo approccio insomma ti ha aiutato a risolverli e quali sono eventualmente anche le criticità che vedi in questa tematica in questo approccio grazie no questo è un tema molto importante molto dibattuto e anche molto innovativo che non riguarda solo l'ambito storico ma un po' tutte le discipline umanistiche che poi si trovano ad interagire a raccontare le trasformazioni ambientali l'approccio more than human intanto nasce insieme allo human cioè sono due cose che non si possono separare cioè dire e ha molte cose negative ed ha anche molti rischi per presentare un po' magari a chi ci sente quello di cui stiamo parlando la mia idea era di raccontare quattro schemi agricoli che il fascismo fa in Libia attraverso quattro piante diverse e quindi com'è nata questa idea delle piante no all'inizio non avevo assolutamente proprio idea di usare le piante volevo usare delle categorie un po' più convenzionali tipo colonia di popolamento cose o piantagione cose che fanno parte del repertorio della storia coloniale e a un certo punto però andando in archivio cioè l'archivio tutti gli archivi che ci parlano del passato coloniale hanno danno molta importanza all'elemento ambientale e l'archivio dell'istituto agricolo coloniale che sta a Firenze appunto è organizzato anche per piante per luoghi e per piante e quindi da l'ho cominciato a pensare se invece di entrare nella storia coloniale nella costruzione della Libia utilizzo un elemento naturale per vedere qual è la rete che si stabilisce attorno a questo elemento naturale forse uno riesco a usare anche di più quello che io so perché io non vengo dalla storia del colonialismo ma vengo dalla storia ambientale quindi è un modo per valorizzare anche il mio punto di partenza e poi perché magari vengono fuori o mi concentro su elementi che non sono stati presi in considerazione e ci sono studi che utilizzano appunto l'elemento non umano per raccontare la storia ovviamente cioè il ruolo del non umano in un discorso storico è un po' diverso rispetto al ruolo del non umano in un discorso di letteratura perché la storia è essenzialmente una disciplina che guarda le relazioni tra società e ambiente cioè non possiamo scrivere una storia asociale o una storia che non sia politica altrimenti c'è il rischio di scrivere una storia naturale non una storia del colonialismo il colonialismo è soprattutto una relazione non non uguale quindi questo va qualsiasi approccio noi utilizziamo questa è una cosa che va comunque messa alla base della costruzione che facciamo l'idea del modern human è molto presente ovviamente c'è uno spettro di usi del modern human cioè c'è chi dice che effettivamente gli oggetti possono avere un agency una soggettività e hanno un ruolo attivo nel determinare gli eventi però se però esistono ci sono delle cose molto importanti che possiamo imparare da l'idea di frammentare un po' la soggettività negli studi di storia uno che ci riporta alla questione che quando scriviamo una storia una storia è sempre una rete e questa è la cosa interessante che viene da tutti gli approcci che includono il modern human sia che utilizziamo l'actor network theory anche qua c'è l'idea di un network o c'è chi guarda all'oggetto come qualcosa che è in grado di contenere più livelli quindi c'è questa idea della rete di causalità e anche l'idea di ecologia come rete non è attraverso una pianta io posso ricostruire le relazioni scientifiche il rapporto fra scienza e politica e le pratiche culturali di varie di vari soggetti quindi non è cioè non è una storia della pianta ma attraverso la pianta è una storia dell'umano infatti umano e non umano almeno nel mio studio non si possono separare quindi cioè se dovessi dire a che serve usare un approccio modern human nella mia ricerca mi aiuta a scrivere una storia da un punto di vista nuovo e quindi ed usare le piante ha messo soprattutto in evidenza il concetto di ibrido che poi magari lo possiamo anche riprendere e quindi le piante che vengono coltivate in Libia non sono né piante indigene né piante italiane sono per forza un ibrido un incontro e questo mette anche un po' in crisi il concetto di imperialismo ecologico che è una delle categorie con cui la storia ambientale del colonialismo ha letto la questione coloniale cioè le potenze coloniali trasformano lo spazio coloniale ma qual è il ruolo che l'ambiente coloniale ha nel determinare il progetto coloniale questo viene fuori se guardiamo agli oggetti ecologici ai soggetti ecologici quindi poi la seconda cosa che secondo me mi aiuta a fare è di nuovo a relativizzare il progetto di colonizzazione cioè ricontestualizza l'idea della colonia di popolamento ricontestualizza l'idea della piantagione come struttura del rapporto agricoltura colonia e mi mette mi dà la possibilità di vedere come più elementi insieme coesistono perché mi stabilisce una rete di causalità e poi anche perché per tornare alle fonti le fonti coloniali sono estremamente puntuali e ricche di dettagli sul clima sul suolo sulle piante sul sottosuolo ed è anche un modo per valorizzare quello che sta nelle fonti e l'asservo ambientale dà molti strumenti per 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 vedere la società dentro questi oggetti cioè dentro questi oggetti ecologici per esempio la sabbia in Libia c'è un elemento ecologico su cui si potrebbe scrivere molto cioè interpretare il deserto è una delle cose o usare il deserto o smentire l'esistenza del deserto è una delle modalità in cui si può usare l'ambiente come strumento per rileggere la storia non so se ovviamente ci sono molti rischi un rischio invece è che se noi diciamo accettiamo l'idea che tutto è agency vuol dire che poi l'agency non ce l'ha più nessuno quindi c'è un limite va trovato però credo che sia un dibattito importante su come portare elementi ecologici all'interno della ricostruzione storica io volevo solo al volo chiederti anche se puoi concretamente anche citare un paio non so se tutti appunto gli esempi di queste piante che ci hai anche indicato nel tuo testo che ci hai mandato per far capire anche poi concretamente di quali tipologie anche di colture si tratti ho individuato delle colture ovviamente su cui ci sono delle fonti e che sono rilevanti nelle fonti la prima pianta è l'ulivo e poi delle piante che mi permettono di fare questa analisi e di mettere insieme a livello ecologico e a livello umano tipo una pianta per esempio è l'ulivo che viene in genere indicata come pianta pioniera e quindi come la prima fase della colonizzazione agricola perché è una pianta che si adatta a vari terreni la seconda pianta è il grano e quindi c'è l'idea dell'autosufficienza alimentare la terza pianta è il tabacco perché esistono delle piantagioni in Libia e quindi volevo comunque tirare dentro l'idea della piantagione come spazio agricolo coloniale e poi in realtà andando avanti non tutte le piante poi funzionano e quindi c'è l'idea di vedere come l'agricoltura indigena poi rimane presente durante tutto il periodo fascista anche se in subordinazione quindi stavo cercando un elemento ecologico che invece mi tiene dentro la politica verso le arabi e quindi di come si passa dai campi di internamento poi ai villaggi musulmani perché il villaggio musulmano è uno schema agricolo però come si mette questo in continuità se utilizzo una chiave di lettura attraverso l'agricoltura con tutto l'approccio che il fascismo ha verso gli indigeni quindi sto un po' provando a vedere se una pianta funziona oppure se devo usare uno spazio o se devo usare un altro elemento ma quindi è estremamente affascinante perché da un certo punto di vista allora una storia dell'agricoltura coloniale o dell'agricoltura in ambito coloniale ha ancora moltissimo da dire ben al di là dei limiti tecnico pratici della questione cioè apre può contribuire a un discorso che come dire toccando la materia dell'impatto ambientale va a parlare della società che andiamo a vedere cioè e questo mi porta un po' a chiederti in che modo comunque cioè se puoi magari darci qualche dettaglio in più su quello che il tuo studio può nel leggere l'impatto ambientale del momento del periodo coloniale italiano come dire come legge le politiche a questo punto che vanno a toccare lo spazio della Libia il primo pensiero è la come dire in Libia c'è c'è una deportazione e ci sono c'è una deportazione di massa c'è una segregazione proprio anche dello spazio della Libia fra confine Libia e Egitto che taglia delle vie carovaniere tradizionali verso il Mar Rosso c'è una ridefinizione dello spazio anche molto violenta è brutale in che modo anche queste cose possono rientrare in una nuova lettura più ampia che si vedono anche attraverso una lettura della come dire di questo impatto ambientale del colonialismo ne sono parte organica o no secondo te sì perché ogni volta che parliamo di espansione dell'agricoltura parliamo di espansione dell'agricoltura europea mentre non è che in Libia non ci fosse agricoltura in Libia c'è l'agricoltura ovviamente introdurre un modello agricolo diverso impone una serie di rapporti comunità spazio totalmente diversi sì la storia dell'agricoltura che tenga presente il contesto e che si avvalga di studi che sulla Libia ci sono ci sono studi sui rapporti colonizzatori colonizzati ci sono molti studi che stanno anche uscendo e quindi come questa parte come la la descrizione sociale rientri poi nella questione della trasformazione agraria della Libia è molto importante ed è importante soprattutto farla per per il periodo fascista e quando perché quando la Libia viene collegata a due concetti che in realtà sono apparentemente non concetti che hanno un connotato negativo uno è quello della bonifica e un altro è quello della piccola proprietà e passare da un'idea di valorizzazione agricola a quella di un'occupazione coloniale secondo me è un passaggio che va fatto attraverso la storia va fatto anche attraverso la storia dell'agricoltura altrimenti non capiamo la cioè la profondità della questione della bonifica o la conseguenza ecologica della questione della bonifica ora la valutazione ecologica è molto difficile da fare non saprei come dire ok le risorse che vengono impiegate in un modello di agricoltura europea negli anni 30 impattano totti non saprei dirtelo ed è una cosa che mi piacerebbe sapere soprattutto per rileggere il colonialismo attraverso la categoria della sostenibilità è come smentire che la produttività è un elemento di successo poi del colonialismo perché questo è ovvio se rimaniamo in un contesto politico coloniale ma quando ci spostiamo in un contesto di agricoltura europea in latinoamerica per esempio la produttività rimane ancora un elemento importante e anche il retaggio è c'è un neocolonialismo fondamentalmente quindi ragionare un po' sul nesso ecologia sostenibilità e colonialismo è interessante anche al di là della ricerca sulla Libia e un'altra cosa solo un minuto sulla questione dell'agricoltura sì l'appropriazione dello spazio cioè come l'Italia si crea uno spazio da assegnare ai concessionari è una forma di violenza e anche quello poi va incluso in una storia agricola cioè il confine tra agricola e ambientale nel momento in cui agricoltura significa rapporti di potere si riduce insomma guarda è perché mi affascina moltissimo la questione su uno spazio come quello libico perché in piccolo io l'ho visto io mi occupo della storia delle isole italiane dell'Egeo e nelle isole italiane dell'Egeo c'è un'opera di profonda modifica dello spazio delle isole che sono isole dove non c'è una grande possibilità di fare agricoltura per la condizione arida dei terreni e si fa nell'isola di Rodi per esempio si fa una riforestazione forzata nel nome di un progresso a produzione di legname per le costruzioni e per altri motivi la memoria di questa riforestazione per esempio ha un impatto ancora oggi sulla narrativa e sulle memorie locali che questa riforestazione vista come una cosa bella perché ecologica fare e mettere le piante ciò che viene dimenticato è una parte della letteratura forse più tecnica sulle questioni agronomiche e forestali tende a dimenticarlo la riforestazione causa es propri di proprietà delle popolazioni locali e non solo e sono sicuro che lo hai visto anche nei tuoi studi causa un cambiamento del sistema per esempio nell'Egeo dell'allevamento il tipo di allevamento che libero o brado più o meno che si fa nelle isole nelle isole greche che tutti conosciamo non è più possibile all'interno di uno spazio riforestato e di proprietà tra l'altro del governo quindi l'impatto delle politiche ambientali sul territorio è profondamente politico e diventa una chiave fondamentale per anche capire la complessità di un sistema coloniale infatti sarebbe interessante confrontare le diverse strategie di trasformazione dell'ambiente perché pur essendo diverse apparentemente inconsistenti che non vanno in direzioni diverse poi rispondono tutte alla stessa strategia che è quella di occupazione di sfruttamento di produttività che è la base dell'idea di ambiente coloniale esattamente esattamente perché comunque c'è una diciamo una politica fortissimamente asimmetrica adesso ci avviamo verso per poi dare spazio alle domande al pubblico però dato che siamo arrivati qua perdonami volevo pungolarti su una questione che mi affascina anche questa sono affascinato da tutto però è la questione sai qui parliamo comunque di una scienza che è comunque la scienza agronomica come si costruisce anche un territorio come se ne cambiano i tratti e di una scienza è una tecnica la tecnica si dice è fatta dai tecnici siamo tecnici è diventata una parola che piace a tutti in questi tempi non facciamo commentari politici per carità però quello che mi incuriosisce è come si collocano allora i tecnici del in questo caso agronomici di queste delle varie culture sperimentali d'oltremare eccetera eccetera all'interno dell'amministrazione coloniale perché il colonialismo italiano di tecnici ne ha molti il mio primo esempio a cui penso sempre io sono gli architetti che si trovano a definire a fare gli spazi umani nelle colonie italiane che poi ha un impatto memoriale di un certo tipo molto interessante ma mi chiedevo i tecnici dell'agricoltura come si rapportano con il potere coloniale come come viene letto anche il loro operato oggi quando si rilegge la storia del colonialismo italiano intanto il rapporto tra tecnici e fascismo cambia durante i vent'anni di occupazione della Libia non è sempre lo stesso no dovevo dire una cosa allora no si cambia durante questo periodo anche perché cambia quello che il fascismo vuole fare della Libia quindi ovviamente in un primo periodo c'è molto più dibattito e i tecnici hanno molto più spazio almeno da quello che vedo io sulle fonti poi ovviamente ripeto una ricerca in corso probabilmente non ho anche delle impressioni sbagliate però in un primo momento c'è molto dibattito e l'idea del popolamento non convince i tecnici cioè però una cosa che cambia tra Italia liberale e Italia fascista secondo me è che il concetto di limite ambientale non si accetta più cioè il limite ambientale nell'Italia fascista diventa un limite tecnico e quando non si supera con la tecnica si supera con la fede fascista si supera con la violenza con la guerra quindi durante il fascismo piano piano si crea una mutua relazione fra scienza fra scienza e politica che a un certo punto dagli anni 30 e poi non si non si può più dividere è interessante perché fino alla fine degli anni 20 c'è molto dibattito su che si fa dalla Libia che tipo di colonizzazione si può pensare per la Libia servono capitali servono non serve il popolamento servono poche persone che hanno gli strumenti si possono fare dei centri di sperimentazione quelli vengono fatti però c'è un dibattito fra tecnica e fascismo dalla fine degli anni 20 alcuni tecnici non parlano più o alcuni tecnici cambiano cioè nelle carte d'archivio si vede che loro cambiano anche le relazioni cioè se in una relazione erano estremamente cauti sul descrivere la Libia come uno spazio per fare per in cui favorire l'immigrazione italiana a un certo punto poi cambiano perché non c'è più spazio per voci diverse e quando cioè almeno questo è quello che poi è la narrativa che viene fuori ovviamente i limiti tecnici sul campo non vengono superati e cioè dalla metà degli anni 30 la questione dell'acqua ma è più non è tanto la scienza o gli scienziati che lavorano per il fascismo ma chi poi si trova ad operare Libia e a fare lavori pratici che non riesce a farli perché quello che pensavano cioè le condizioni non c'erano è la reazione dei problemi sul campo quelli che a quel punto poi devono cambiare anche le policy però da quello che ho visto io alcuni scienziati si schierano anche però non cambia niente perché anche dire no a un certo punto non ha cioè o è talmente palese quando alla fine degli anni 30 all'inizio degli anni 40 è palese che non c'è oro è palese che la Libia non è l'Italia non è un paesaggio come quello che era stato raccontato l'acqua non c'era e quindi alcuni lo dicono anche ma a quel punto non serve più quindi quando poi il dibattito fino al 29 c'è una specie di interazione di dialogo a un certo punto non c'è più perché il concetto di limite non viene più accettato dalla retorica e quando si va sul campo il concetto di limite emerge ma a quel punto i progetti fascisti erano già dovevano iniziare e dovevano continuare non c'è più possibilità di cambiare questo è molto interessante e porta porta a una domandona a un problema sulle fonti che come dire a questo punto c'è il problema della della fonte tecnica che anche con Giacomo ci siamo un po' confrontati sulla cosa e Giacomo aveva qualcosa da dire secondo me sul problema io volevo prima fare una una curiosità al volo che mi è nata durante la vostra conversazione ora ho un po' paura a fare la domanda perché con due esperti appunto della di storia coloniale magari dico una castraneria ma prima appunto dicevi che c'è stata un'evoluzione di come i tecnici italiani si pongono la questione ambientale o la questione agraria insomma per dirle in maniera generale e volevo chiederti se anche in base magari alle ricerche che tu hai fatto in precedenza sul contesto italiano cioè c'è una sincronicità con l'evoluzione di come questa questione viene posta in Italia perché prima tu ti riferivi come problema centrale a quello della bonifica e anche il regime fascista proprio nel contesto italiano ha una insomma c'è un altalenante andamento diciamo della politica fascista su questo tema per sintetizzare uno basta che vede un po' le fortune alterne le fortune di Serpieri come esponente insomma dell'apparato statale a volte viene richiamato a volte viene allontanato e con un andamento veramente diverso questo andamento è lo stesso che si verifica in Libia cioè c'è una cordone di trasmissione immediato o c'è un'esperienza che si sviluppa in maniera parzialmente autonoma e i tecnici che dirigevano queste iniziative in Italia si interessano nella questione libica perché appunto sempre per fare l'esempio di Serpieri da quel poco che ho visto io lui era un grafomane su ogni aspetto su ogni consorzio di bonifica lui scriveva relazioni note aveva queste curiosità lui o tutti insomma quelle figure che sono state anche ampiamente studiate che che lavoravano attorno a lui ecco eh sì c'è guarda stranamente da quello che poi ho notato le date coincidono cioè quando avviene la frattura fra tecnica fra scienziati e tecnica e fascismo in Italia per questioni che riguardavano l'Italia avviene anche per questioni che riguardavano la Libia ma perché cambia proprio l'atteggiamento del fascismo quindi è anche interessante vedere quando poi ci concentriamo sul periodo fascista come la costruzione delle colonie dello spazio coloniale procede insieme alla costruzione del fascismo come regime quindi è la questione che ruolo ha la tecnica diventa importante e non c'è genere quasi mai una disparità fra quello che c'è una discrepanza temporale fra quello che avviene in Italia e quello che avviene nello spazio coloniale eh sono molto in dialogo fra loro eh sì ci sono anche studi che dicono la che queste cose sono ehm sono collegate e avvengono in maniera sincronica eh l'altra domanda che mi hai fatto esiste una continuità sì fra eh chi si occupa di soprattutto i tecnici i tecnici che si occupano di di suolo sono gli stessi chi si occupa di fertilità del suolo in Italia soprattutto sui suoli del sud Italia lo ritroviamo che lavora in Libia o viene spostato in Libia quindi c'è eh non c'è l'idea eh che è un po' un'idea di costruzione dello spazio coloniale come qualcosa di leggibile e quindi ti serve cioè c'è continuità eh c'è meno acqua ma è come l'Italia ma è come il sud Italia quindi le stesse se noi coltiviamo l'Italia possiamo coltivare la Libia più o meno questo è eh e c'è una continuità di tecnici che si occupano o di sud Italia e quindi Sicilia Calabria e Libia eh e suoli aridi in generale oppure ci sono tecnici che si occupano appunto di agricoltura eh non eh sull'Italia ma ehm c'è l'istituto agricolo coloniale per un periodo si occupa di emigrazione e agricoltura e quindi poi come il colonialismo e l'agricoltura coloniale si inserisce in un discorso un po' più ampio di sviluppo eh agricolo in oltremare in un oltremare insomma interpretato in maniera più ampia in un oltremare non necessariamente italiano di proprietà politica dello Stato italiano questo è questo è molto interessante comunque quindi da questo punto di vista e poi il legame sud Italia Libia eh diciamo questa questi due punti che si toccano si vede anche in epoca repubblicana addirittura eh così impressionisticamente eh il piano il piano regolatore di Tripoli viene ripreso paro paro per costruire eh la nuova parte di Matera quando la popolazione viene portata fuori dai famosi sassi e perché l'idea è che per costruire la nuova città e territorio tutto sommato fosse considerato simile e le necessità urbanistiche fosse tutto sommato simile quindi ci sono sempre questi collegamenti queste continuità eh di expertise fra lo spazio coloniale alle volte e il e il sì e no e riguardano soprattutto i territori simili perché in realtà la bonifica in Italia si fa per prosciugare dall'acqua quindi l'idea del suolo arido serve per collegare cioè per mettere relazione con testi ambientali simili quindi in genere sono i tecnici che lavorano sul sud Italia che poi vanno in Libia c'era allora alle 18 e 26 che dici Luca è un'oretta abbondante sentiamo il pubblico dal pubblico arrivano curiosità domande allora invitiamo partecipare numeroso e a fare tutte le domande che hanno nel loro e anche osservazioni se ho detto cose non precise insomma ditemi qualsiasi cosa nella chat e poi noi ovviamente le leggeremo assolutamente mettetele nella chat in chat grazie se fanno per favore e noi provvederemo a svolgere la nostra funzione di annunciatori leggeremo le vostre parole mentre le parole mentre il pubblico allora ci scrive le loro domande io avrei un'ultima curiosità però la mia voce è stancante quindi sarò brevissimo sarò brevissimo lavorando sempre sull'ambito coloniale e avendo visto più il problema spesso appunto posto magari dall'architettura o da cose tecniche o artistiche fatte in ambito coloniale spesso vengono usate per in un modo un po' troppo assettico le storie dell'architettura in ambito dell'ultremare sono spesso più descrittive che non critiche e queste descrizioni un po' a critiche del bello artistico della struttura moderna in un contesto arretrato spesso portano dei giudizi inferiscono dei giudizi negativi nei confronti della popolazione che ha subito la dominazione coloniale e ogni tanto vengono anche utilizzate da narrazioni retrive nostalgiche per dire quanto siete bravi quanto stati bravi gli italiani o il dominatore coloniale in generale naturalmente non è solo un caso coloniale io volevo solo chiederti questa cosa se secondo te la fonte tecnica del progresso agricolo del progresso di come viene cambiato il territorio libico crei il rischio di una narrazione troppo asetica se possa come dire essere presentare delle difficoltà da questo punto di vista possa essere un po' troppo tecnica per poter essere così utilizzata qual è la tua riflessione un po' su questo pensiero se ho detto io questa volta una castroneria galattica no sto pensando a due strategie in cui la fonte tecnica può essere fuorviante e in genere e questa è un'esperienza personale io non ho una grande simpatia per le fonti tecniche quando le leggo quando diventano troppo lunghe è proprio noia però lo faccio e ci sono due strategie o praticamente si descrive in maniera molto essenziale e la descrizione non ha fondamento con la realtà oppure si danno talmente tanti dettagli che c'è tutto il contrario di tutto sulle miniere per esempio in Africa orientale ci sono dei rapporti estremamente dettagliati però a quel punto si perde un po' il quadro di insieme quindi in due modi tecnici influiscono e mettono in crisi chi legge perché poi quando tu hai una montagna di dati capire qual è effettivamente il problema diventa difficile quindi sì in alcuni casi il tecnicismo nel senso dell'eccesso di dettaglio è una strategia non per dire cose cioè magari per dire cose vere ma per decontestualizzarle e per mettere tutto sullo stesso piano in maniera equivalente quindi questo è una delle cose che ho notato e quindi perché mi affatica poi nella lettura e poi sì e no nel senso se ci liberiamo dell'idea della valorizzazione agraria leggere la trasformazione diventa cioè se il contesto è politico quella trasformazione diventa politica e soprattutto molto mi ha aiutato in questo nel mettere un po' a confronto le descrizioni delle piante o dell'ambiente della Libia dell'Italia dal 1913 del 12-13 più o meno questi sono gli anni in cui si scrive moltissimo su l'ambiente della Libia e quello che poi fa il fascismo cioè alcune cose vengono eliminate oppure si cioè della Palma durante l'Italia liberale si parla tantissimo sì e poi c'è una domanda di Emanuele Ertola che cita proprio adesso non vedo adesso te le leggiamo noi poi non è detto che io sappia rispondere ma al massimo simula l'interruzione della wifi non mi funziona problema allora vado con la prima Stefania Gallini scrive grazie Roberto interessantissimo e ha due domande la prima è una comparazione con storie del colonialismo in altre aree geografiche in particolar modo lei pensa all'America e all'India alle Americhe e all'India cioè se allora questa è una delle mie domande cioè delle cose che sto provando perché all'inizio ero partita con l'idea che esiste un colonialismo fascista cioè il fascismo ha un rapporto speciale con l'ambiente e quindi possiamo definire che cos'è un ambiente coloniale fascista mentre una cosa che ho più studio e più mi accorgo è che possiamo effettivamente dire che i regimi liberali siano stati diversi nello spazio coloniale cioè alla base c'è sempre lo stesso la stessa idea di rendere produttivo un territorio ci sono delle differenze ovviamente se penso all'India per esempio l'ecologia della piantagione del tè è molto evidente oppure essendo anche una colonizzazione più lunga si possono fare delle riflessioni diverse sull'adattamento delle piante sullo studio delle piante e sui rapporti sociali che poi si stabiliscono nelle piantagioni un'altra particolarità del cioè della Libia ma è che si tratta più o meno di colonialismo di popolamento per gran parte e quindi magari alcune cose che troviamo in altri colonialismi non ci sono cioè c'è l'idea della piantagione in Libia con la colonia di popolamento non c'entra molto quindi questa è una differenza che noto mi ha detto l'India e le Americhe le Americhe che altre di è un cioè più o meno c'è un'appropriazione del territorio che è sempre quella coloniale e rimane però ci sono alcune differenze quanto c'è un uso più politico del soprattutto nella madrepatria dell'ambiente c'è il ritorno la costruzione dell'ambiente è funzionale ad alcune politiche che si fanno e questo è meno evidente nell'impero britannico per esempio perché il fascismo cioè costruire l'impero significa costruire il fascismo poi a un certo punto e la seconda domanda di Stefania è lei chiede o ipotizza se per comparare la IN o sostenibilità dei sistemi coloniali possa funzionare il carico del metabolismo socioecologico come quello che viene fatto dalla scuola spagnola andaluse e catalana sì però non è una cosa che ho cioè lo prendo come un suggerimento ma non è cioè è una cosa su cui sto pensando adesso quindi sì un concetto di metabolismo sicuramente mi aiuta nel fare una valutazione di sostenibilità in sostenibilità quello su cui mi stavo concentrando adesso appunto è che per me l'idea di sostenibilità è creare uno spazio in cui un ambiente in cui ecologia e comunità vanno cioè procedono insieme cioè sono sostenibili a vicenda e che fa il colonialismo il colonialismo mi rompe questo questo appunto il metabolismo che c'era prima e quel metabolismo non si riforma più quindi l'insostenibilità del del colonialismo per me appunto è la rottura di rapporti che c'erano fra comunità e spazio quindi sì però grazie ci ci penserò grazie mille e grazie per stare al seminario no perché io non vedo nessuno è un po' strano così noi abbiamo una funzione una funzione ulteriore allora ci sono molti stimoli nelle chat che leggeremo subito però volevo dare prima spazio a una domanda proprio che ti viene rivolta da parte di Emanuele Ertola che ti dice ciao Roberta complementi per la ricerca originalissima di cui sono molto curioso e noi col dottor Ertola ti chiedo se in che modo dialogherai con tutta quella narrazione sulla Libia che dagli anni ottanta dell'ottocento ha come centro proprio le piante il suolo del clima decine di pubblicazioni appunto quello che dice i miei di piante sugli olivi millenari che spesso hanno poca attinenza con la realtà ma che costituiscono le fondamenta del mito della terra promessa con la T e la P maiuscola perché la tua no grazie di essere al seminario perché ho letto le tue cose il libro i faggi quindi grazie sì è quello che sto facendo adesso perché uno dei miei limiti era appunto se guardo solo al periodo fascista molte cose mi sembrano nuove ma quello che non coglievo era come si appunto costruisce proprio lo spazio coloniale quindi ho provato sto andando adesso indietro e molte cose ritornano molte cose ritornano in maniera molto relativa rispetto a poi all'assolutizzazione dello spazio che compie il fascismo quindi sì clima piante olivi sono cioè ci sono tantissimi studi su quello e non solo italiani e li sto provando ad inserire soprattutto per metterli a confronto e per vedere se c'è continuità o discontinuità soprattutto tecnica perché ripeto tipo le palme scompaiono poi dalla costruzione fascista da quello che mi sembra però prima la palma è uno degli elementi che si usa molto per descrivere la Libia e anche l'olivo l'olivo non è lo stesso olivo che poi il fascismo dice essere in Libia molti degli olivi della Libia rimangono varietà indigene non sono olivi alcuni vengono importati dall'Italia però a volte nella maggior parte dei casi si tratta di innesti quindi sì grazie questa è una cosa che sto guardando proprio adesso perché era uno dei limiti della ricerca quindi perché si è costruita in due fasi dato che tutti mi criticavano una cronologia troppo stretta sul fascismo allora ho cominciato ad andare però anche oltre la Libia come colonia formale quindi sì grazie mille invece Gianluca Podestà consiglia di non sottovalutare il passaggio del 36 che diventa anche una rappresentazione scenografica a servizio del progetto totalitario del regime dalle città e villaggi dei siti archeologici alla costruzione delle infrastrutture e così via sì ok non ho notato che succede nel nel 36 perché l'uso della della cioè dei resti archeologici eccetera vengono cioè li trovo anche in età cioè negli anni precedenti però non è la prima volta che mi che mi si dice di controllare se il 36 rappresenta una frattura anche per la storia della Libia quindi grazie colgo il suggerimento il 36 è un anno spesso di cesura su moltissimi punti della storia dell'organismo italiano e quindi forse anche nell'impatto con l'ambiente io invece passo a presentarti alcune osservazioni che fa Gabriele Bassi le sintetizzerò nel migliore dei modi e non me ne voglia Gabriele Bassi se magari perdo qualche pezzo gridi in chat che lo recupero allora lui innanzitutto ti suggerisce ti fa delle osservazioni la prima parte vorrebbe sostanzialmente capire che se fai una come dire se segui la periodizzazione delle attività dei governatori delle diverse amministrazioni governatorali come cadenza anche nel tuo studio che è un modo in cui si è anche studiata adesso si vedono delle differenze lui per esempio cita Volpi con la requisizione dei terreni per l'avvio di una colonizzazione privata poi il passaggio a Badoglio la conquista fisica dell'ambiente Balbo con la messa a frutto infine lui suggerisce dello spazio ottenuto per l'organizzazione dei villaggi della colonizzazione demografica inoltre magari al di là dei limiti del fascismo Gabriele Bassi suggerisce questa conquista di un ambiente immaginato immaginario cioè penso proprio il problema del che abbiamo hai toccato un po' di volte una discussione cioè l'idea della Libia come una proiezione un'immaginazione di uno spazio simile all'Italia che però poi questo spazio immaginato diventa irreale per l'immigrazione italiana e poi riporta la tua attenzione su quello che avevamo anche un po' detto il concetto della Libia come unitaria nella costruzione italiana al di là della denominazione Libia lui ti consiglierebbe di analizzare in modo molto dettagliato e separatamente le regioni su tutto l'arco del prima durante e dopo l'esperienza coloniale e le loro variazioni morfologiche economiche demografiche che sono molto diversi e conclude sulla questione della sostenibilità e dell'impatto e quindi pur essendo d'accordo che a livello economico l'agricoltura in Libia non è mai stata sostenibile per i capitali investiti e i risultati ottenuti però ti chiede se dal punto di vista dell'impatto ambientale la debolezza degli impianti agricoli il ritorno alla desertificazione dopo la guerra il ritorno alla transumanza lui ritiene che non hanno avuto visti questi fatti un grande impatto ambientale cioè il sistema agricolo italiano della costruzione data la situazione che si è creata successivamente dopo il periodo italiano lui sostiene che non ha avuto un impatto così forte e ritiene che sia più un impatto politico culturale economico sociale in questo senso mi chiedo sei d'accordo c'è un la pensi diversamente io spero di aver fatto giustizia alle tante osservazioni di Bassi in questa chat magari se mi copi la chat allora facciamo ok no no adesso dopo la questione dei governatori sì c'è nel cioè ci sono queste scansioni temporali all'interno del cioè del mio studio all'inizio pensavo di cioè che lo studio delle piante mi portasse ad avere uno studio più cronologico cioè inizio dall'olivo poi passo al grano poi passo al tabacco eccetera in realtà poi ho notato che molte piante tagliano tutto il periodo coloniale quindi sto provando un po' a ridefinire la cronologia però sicuramente c'è ritornano i vari governatori nella definizione dello schema agricolo nella definizione della politica araba nella questione della pacificazione e nella questione dell'allargamento del demanio sì questo ritorna non cioè rientra non è non è un però una scansione dominante nella mia nella mia ricerca la seconda sullo cioè sullo spazio me la ridici un attimo Luca perché allora allora aspetta aspetta che arriviamo tutututututu l'idea del quest'idea della Libia come ambiente immaginato prima della conquista di un ambiente immaginato immaginario per l'emigrazione italiana e quindi il rapporto come dire questo scontro con la realtà che la Libia in realtà non sia un territorio così che poi si collega alla sua ulteriore osservazione che tutto sommato tutte queste attività fatte italiane hanno un impatto a suo avviso limitato visto ciò che succede dopo allora sì c'è una c'è un enorme discrepanza fra la costruzione lo saprai meglio di me della Libia come spazio come l'altra Italia quindi come spazio fertile come spazio in cui c'è spazio perché in Italia l'Italia è un paese in cui le terre non erano disponibili in cui si può ricreare una società senza vincoli che erano legati allo spazio i vincoli giuridici i vincoli storici eccetera sì c'è l'idealizzazione della Libia in Italia nel momento in cui arrivano poi vabbè le fonti d'archivio sono piene di queste cioè dello scontro che poi i coloni hanno i coloni ma anche chi si trova a fare lavori nella in Libia che hanno e quindi l'effettiva migrazione e l'effettivo stabilimento delle comunità è molto limitato l'impatto sì è limitato e questa era una delle cose che ho un pochino menzionato cioè estremamente ristretto quindi quando noi parliamo di colonizzazione agricola ci riferiamo a una percentuale bassissima del territorio della Libia quello però che fa il fascismo ed è una conseguenza del regime coloniale appunto rompere il legame la deportazione o leggere la storia della Libia come una forma di genocidio e poi di ecocidio sono delle letture che stanno entrando adesso nella costruzione dell'ambiente coloniale italiano e che cosa cambia secondo me perché io dico che è insostenibile al di là poi della trasformazione a parte che c'è uno sfruttamento di risorse enorme soprattutto in termini di quantità d'acqua in pochi anni se mettiamo a confronto gli strumenti con cui l'acqua veniva utilizzata prima che si scavassero che si arrivassero alle fonti eccetera prima del fascismo e quello che succede dal 35 in poi c'è il tentativo appunto di appropriarsi di una quantità di risorse di cui la Libia non disponeva e quanto intaccare le risorse idriche pesi nella Libia postcoloniale non lo so ma è una delle domande a cui mi piacerebbe poter rispondere al prossimo libro quello che si rompe appunto è il rapporto fra economia agropastorale e le comunità un po' per la deportazione e un po' perché poi le terre vengono occupate e questo vincolo anche secondo me non si ricrea più in questo termine in questo modo per me io misuro l'insostenibilità perché poi la Libia passa da un territorio coloniale visto come suolo in cui impiantare le colonie di popolamento a un territorio che produce petrolio e che cosa rimane del rapporto comunità ambiente precoloniale quello non si riforma più però sì è una cosa su cui sto ancora lavorando e ho bisogno di supportarla però in questo senso io dicevo l'insostenibilità è ovvio il progetto italiano è molto limitato questa è una cosa che sto provando a sottolineare in tutti i modi ma nonostante sia limitato la violenza che si attua sulle persone e sull'ambiente è talmente forte che rompe definitivamente la questione il legame comunità e ambiente e su cui poi si innestano processi postcoloniali di appropriazione di altre risorse e quindi la Libia viene vista in un altro modo non so se ho risposto perfettamente hai eviscerato il problema hai eviscerato proprio il problema passiamo alla domanda di Giuseppe Caputo di Giuseppe Caputo che chiede se vedi dei parallelismi tra la via italiana e il colonialismo in Libia e in Somalia immagino dal punto di vista ovviamente anche ambientale alla relazione non so se vuoi che te ne faccio più di una sì magari se me ne dai step by step invece Nicola Bassoni ti fa i complimenti per la ricerca e dice che ha trovato molto interessante l'idea del rifiuto dei limiti ambientali sotto il fascismo però dice si può vedere qualche continuità con alcune narrazioni del periodo prebellico cioè di 1911-1912 ricordo ad esempio un geografo Goffredo Iaia che negli anni 30 affermava la volontà piega sempre la materia e nell'undici sosteneva come la Livio potesse ospitare 40 milioni di persone infine ormai che ci siamo anche Gianluca Podestà dice che non sottovaluterebbe che sia in Libia sia in Africa orientale si crea un'economia artificiale prima che rispondi ovviamente dico a tutti coloro che avessero delle domande in mente che questo è il momento di farle non abbiate paura avete visto che non mangiamo nessuno allora la questione Somalia Libia esistono dei parallelismi ovviamente perché anche in Africa ma non solo in Somalia ma anche in Africa orientale si tentano delle cioè delle comunità degli spazi di popolamento quindi esistono delle comunità agricole anzi la valorizzazione agricola inizia anche prima è una cosa interessante della Somalia che vorrei provare a studiare di più appunto la produzione delle banane e metterla a confronto con la produzione del tabacco in Libia cioè che tipo di sviluppo economico hanno sì comunque grazie e poi vabbè c'è la questione della colonia di popolamento che ritorna anche in Somalia sulle continuità e discontinuità sì ovviamente molte alcune cose erano cioè l'idea della 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 Libia come spazio in cui migra di colonia di popolamento non nasce solo col fascismo c'era anche prima però c'era molto c'era più cautela c'era più dibattito l'idea della Libia come scatolone di sabbia rimane comunque un c'è un mito duro a morire c'è una realtà dura a morire fino a che il fascismo non decide di eradicarlo del tutto e di di significare il deserto in un altro modo non è che poi il fascismo toglie il deserto lo usa in maniera produttiva lo usa in maniera funzionale allo sviluppo turistico alla costruzione delle colonie come spazio esotico però c'è ci sono delle continuità e sicuramente continuano ad essere ad esserci geografi che affermano cioè persone che affermano già prima del fascismo che quella è una colonia di popolamento ma questo avviene non solo da soggetti italiani la Germania o le comunità ebraiche guardano la Libia come una colonia di popolamento ben prima dell'Italia quindi sì esistono idee in contraddizione però rimangono solo che diventano più o meno predominanti in alcuni periodi quindi sì devo ho un po' schematizzato l'ultima domanda era quella sull'economia è un più un'osservazione che oggettivamente in tutto questo discorso ed è un'osservazione corretta che comunque non stiamo parlando di un'economia non diciamo naturale ma un'economia a se stante è comunque un sistema con un'economia che Gianluca potresti definisce artificiale quantomeno funzionale agli interessi agli interessi imperiali italiani quantomeno con fortissimo dirigismo centrale e quindi nel senso bisogna ancora una volta rimarchiamo che l'elemento politico è imprescindibile in tutto questo in tutto l'ecosistema di di questo studio e va è comunque un elemento da rimarcare che lui ti suggerisce di non di non lasciare perché quando mi dico un artificiale stavo già pensando a tutte le infrastrutture all'energia che serve però sì che sono fondamentali nel senso di costruzione politica non solo costruzione ecologica e tecnologica sì grazie e a questo punto se aspettiamo ancora un po' i minuti se qualcuno ha qualche curiosità ancora qualche domanda da fare avrei io una più non una domanda ma una vera e propria curiosità di una banalità disarmante ma mi perdonerai se te la faccio il mare nel senso ciò che l'ambiente marittimo dà alla Libia e che tutto sommato lo connette a tutto il mondo del Mediterraneo io il primo pensiero che ho è la coltivazione la raccolta per esempio delle spugne che diventa una parte fondamentale dell'economia fondamentale forse mi è un esagerare ma molto importante dell'economia all'interno dell'impero italiano ha una parte importantissima in Libia secondo te c'è può funzionare serve un discorso sullo spazio mare su ciò che il mare può offrire a uno studio sulla Libia o non è così importante qualcosa che merita di essere trattato a parte o non è considerato negli studi dell'epoca il mare in sé non è non è così importante è più importante un discorso diciamo sul territorio la gestione del deserto eccetera eccetera no è molto interessante perché cioè qual è il ruolo del Mediterraneo non solo come linea che congiunge non solo come collegamento ma proprio come spazio di collegamento c'è qualcosa sul qualche studio sui tonni perché c'erano delle cioè che cosa collego io da quello che ho letto all'ambiente marino c'è i tonni ci sono anche italiani che si trasferiscono in Libia per lavorare nelle tonnare e la produzione di sale in questi ambienti ibridi non e che è molto interessante perché anche là sono a metà fra terra e acqua no in realtà sì io non l'ho esplorato perché è un pochino fuori da cioè dall'idea di agricoltura però no è in realtà interessante perché apre cioè un discorso più ampio sull'ambiente in generale sull'ambiente sì e guarda cioè guarda anche alle acque e non solo alla terra che è una cosa che la storia ambientale sta facendo adesso e e poi sì vabbè si ricollega anche a questioni sulle risorse idriche sulle risorse marittime e sulla pesca in Africa orientale è molto interessante però in realtà è tutto abbastanza nuovo e quindi qualsiasi cosa vedo ma ciò è bellissimo ma poi è bellissimo si può provare tutto però so che qualcuno sta lavorando sui tonni in Libia Gianluca Potestà oltre a farti complimenti doverosissimi per cui ci accodiamo tutti credo per la tua ricerca voleva sapere se hai qualche riscontro molto puntuale sulla coltivazione dello sparto in cui lui sembra tutto per un progetto sull'Io io sullo sparto alzo le mani che c'è all'inizio degli anni 20 e poi ritorna con la questione dell'autarchia quindi sì c'è non è ovviamente anche cioè non è che è una cosa molto molto trattata però rispetto ad altri prodotti lo sparto ritorna spesso ritorna spesso ritorna come una delle risorse che la Libia può fornire all'Italia quindi sì ci sono